Ancora? Ma che ci fai qui? Ma perché mi segui? È pericoloso. Ma lo sai cosa fanno le ragazze a quest'ora? Non sei nemmeno vestita da uomo, metti questo. Io mi segui, ti porto a casa. Seguimi. La milizia, via. Scappa. Scappa! Siete in arresto per riferimento di Lorenzo Tommastoni. Muoviti! Ehi, spessatelo! Ehi, spessatelo! Grazie. Grazie. Grazie.